Siamo oggi per cuocere le ricette molto semplici di piacere con il vinagre e l'alto. È straordinario e molto testo. Solo bisogna di piacere, di piacere, di piacere, di piacere bianco, di oliva, di pepe nero e di salto. Siamo salta l'acqua. In salta l'acqua aggiungiamo le piacere. Ora, aspettiamo che il cuocere inizia di nuovo e non resta più di 5 minuti, a partecipare della crunchness delle piacere che preferite. Dopo circa 5 minuti, provate la piacere. Questo sembra perfetto. Le piacere sono pronti per essere usciti dall'acqua. In una grande pancia aggiungiamo un po' di oliva. Siamo aggiungendo il vinagre. E lasciamo frire un po' di poche. Una volta che il vinagre inizia a frire, proprio prima di farlo, aggiungiamo le piacere. e poi lo metto inizia a frire. Siamo rimangendo la piacere. Come lo metto inizia a frire. Dopo la piacere inizia a frire. E poi si muove la piacere inizia a frire. e poi lo metto inizia a frire. Lasciamo assorbire il vino per un po' di minuto e i bambini sono stati pronti e sono pronti per cominciare. Ho finito con il grado di black pepper. Il vino è pronto per cominciare. Fantastico!